buona giornata oggi un pensiero del giorno molto particolare mi chiedi perché semplice perché non è un pensiero del giorno è semplicemente una meditazione di questa bellissima natura prenditi due minuti giusto solo due non tantissimo due minuti per te e goditi questa natura in silenzio con me senti ogni piccolo particolare ogni piccolo rumore e godi di questa bellissima pace questa pace questa tranquillità riempirà di gioia la tua giornata e nel momento in cui avrai bisogno di un po di pace di un po di tranquillità di un paesaggio così bellissimo non ti peritare prendi questo video aprilo e godi di queste sue vibrazioni bellissime anzi ti dirò di più se vuoi fare un regalo bellissimo alle persone che ami si proprio a quelle che più ami donale questo video che si sarà poco sarà una cosa non eccessiva ma sarà quella cosa che farà gioire di cuore su cuore e ti ringrazierà sì certo ti ringrazierà quindi ora con me godi di questa bellissima natura ciao Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.